buongiorno a tutti vi auguro a tutti buona pasqua e sia che universo vi fa veri tutti i vostri desideri che ce li avete come vedete qua avanti a me c'è una candela di colore bianca ho preparato un rito semplice per voi tutti a casa quelle persone che mi state seguendo a parte per una signora lucia che lo saluto e auguro buona pasqua e che tutti i desideri che lei ce l'ha e si fanno veri io sto lavorando adesso per lei però mi sono permessa a presentarvi anche a voi questo rito semplice che io lo sto facendo la lucia ti bacio lucia allora c'è un rito semplice un rito dei desideri un rito di prosperità un rito che vi può portare anche voi tutte le persone che lo state facendo grande satisfazione in lato di affari di soldi e anche perché no in tutti i vostri desideri che ce li avete io ho preparato una candela di colore bianca dove ho scritto nome di lucia e ho scritto prosperità ok indulciamenti perché ce l'ha un po di problemi con suo marito diciamo così anche voi che ci avete problemi con vostro compagno o ci avete un compagno che non vi dà attenzione potete scrivere nome di quello compagno e potete scrivere indulcirti con me perché lui si deve indulcire no è un desiderio di indulciamento o invece avete problemi legati di soldi vi scrivete in vostro nome dove scrivete soldi si fanno dolci con me si indulciscono potete scrivere due o tre desideri dopodiché ha fatto questa procedura date la candela con un po di olio di olive insieme con un po di miele lo mescolate una tazza e praticamente date su questa candela e lasciate a bruciare fino a quando la cera si consuma questo rito si fa solo sabato oggi è sabato non importa ora che è la sera che è di giorno io lo faccio adesso di solito la sera si prendono di più dopo 9 di sera io l'ho fatto adesso perché la sera ce l'ho anche altri riti da fare di amore di altre cose e non ce l'ho tempo mi faccio tempo in modo in quale posso satisfare tutte le persone che ce l'hanno bisogno di me dopo che ha fatto questa cosa che vi ha scritto tutti i desideri su una candela tutte le vostre tipo affari tipo chi so io che problemi avete che ha dato la candela con olio di oliva un po di miele potete prendere un ovo ok lo rupete perché devi rimanere proprio così vedete perché dentro di questo ovo per avere prosperità per avere tanti soldi nella vostra vita che questi soldi non vanno mai via delle vostre case potete fare anche seconda procedura così prendete un ovo fate fuori tutto ciò che è dentro di ovo ok e prendete una moneda 10-40 centesimi 20 centesimi 1 euro come desiderate questa moneda prima si sta purificando con acqua e sale per mandare via tutte le energie che sono toccate perché soldi si caricano di energie come noi li toccamo con mani dopo che si è asciugata da sola questa moneda lo mettete praticamente dentro di questo ovo vedete? così di che dopo di che mettete zucchero tre cucchiaini di zucchero zucchero bianco di preferito e dopo che ha fatto questo vedete? l'ha smesso qua vicino di candela no? quando la candela è consumata quasi così a metà lo prendete e piccurate piano piano la cera fino a quando questa cosa sta facendo tipo un tapo di cera e dopo che si è fatto questo la candela lo lasciate a consumarsi e questo lo mettete in armario dove voi avete gli alimenti avete pasta, avete farina è un armario di cucina perché questo sarà proprio un indulciamento di soldi perché zucchero tira soldi si indulciscono e questo rimane in armario dove si cucina cioè dove cucina vostra mi scusate in armario dove voi tenete gli alimenti come pasta come farina come zucchero lo mettete lì sopra questa sarà tipo una energia che tirerà sempre soldi in casa vostra soldi mai non vi mancheranno perché questo è un rito semplice da fare basta che voi un po' vi mettete tutta la vostra energia per cercarlo da fare io comunque lo devo finire per Lucia vi auguro anche a voi dello fate che si prende che vi porta tanta fortuna e che tutti i soldi della vostra vita saranno dolci e non mancheranno mai in casa perché senza soldi un po' ci troviamo tutti in difficoltà e le fate così praticamente con questa candela di colore bianca che voi vi scrivete nome dello fate per voi o dello fate per altra persona e i vostri desideri con indulciamento tipo indulcisco x y z indulcisco i soldi indulcisco la mia affare indulcisco la persona che voi lo volete indulgire quando la cera è finita lo potete buttare di casa lo potete sepultare vicino di una pianta con fiori adesso è arrivata la primavera ci sono fiori dei ciliegi arbori potete fare un semplice bocco più piccolo e mettete la cera dentro di questo vicino di una pianta che è bella perché così il desiderio vostro si fa vero non una pianta che sta in casa che voi lo curate una di fuori di casa perché di fuori di casa vi deve arrivare tutte le cose belle io mi fermo qui spero di cuore che vi è piaciuto questo semplice rito per indulcire soldi per indulcire le persone ci vediamo prossima volta con altri tipi di rito come tutte le persone mi ha scritto su privati e volete riti di amore io prossima volta vi presenterò un semplice rito di amore per tutte le persone che ce l'hanno difficoltà in amore che non si trovano bene con compagno o compagna vi auguro di nuovo buona pasqua vi voglio tanto bene vi bacio sia che l'universo vi fa avere i vostri desideri vi voglio tanto bene ciao ragazzi vi voglio tanto bene vi voglio tanto bene